Per l'autodifesa, come gay, lesbiche, trans, donne, conviventi, divorziati e divorziate, atei e atei. Per una scelta di civiltà, contro il controllo dei corpi. Per separare l'etica dalla morale cattolica. Per essere coerenti col proprio stile di vita. Per difendere la recità delle istituzioni. Sabato 22 ottobre, il Comitato Gay e Lesbiche Prato sarà in piazza del Duomo con un banchino informativo. Lo sbatteggio Info Point. Se sei interessato, interessata, interessat, vieni e abbiamo i moduli per potersi sbattezzare. Passa a trovarci dalle 2 alle 8 in piazza del Duomo. Ciao! Per sbattezzarsi basta una raccomandata alla diocesi. Sbattezzarsi non porta sfiga. Passa a trovarci dalle 2 alle 9 in piazza delle inscrip проблемы. Sbattezzarsi non porta fissuta, non porta fissuta,uta, rock e般. Passa a trovarci di una stella di un cattolica. Passa a trovarci di un cuore. Grazie a tutti.